Ciao ragazzi, accetto anche io la sfida di Che fatica la vita da bomber per aiutare gli ospedali italiani Ciao ragazzi, accetto anche io la sfida di Che fatica la vita da bomber per aiutare gli ospedali italiani ringrazio per il nome della mia volta Andrea Lanzi, Amir Romani e Matteo Pessina Ciao ragazzi Ciao ragazzi, accetto anche io la sfida di Che fatica la vita da bomber per aiutare gli ospedali italiani ringrazio per il nome della cruda Japong e Thomas Takrosha e il nome della mia volta Andrea Lanzi, Amir Romani e Matteo Pessina Ciao ragazzi Grazie a tutti Grazie a tutti